Iniziamo domani con tre giornate finalmente di sicuramente parte religiosa perché la festa è dedicata ad una Madonna per noi importante che è quella di Santa Maria di Ponte Apporto. L'accompagniamo con oltre che con la processione di domenica mattina inizierà alle 5 di mattina e poi ci sarà la messa a seguire sempre nella chiesetta di Ponte Apporto che invito veramente a visitare perché è una chiesa storica di un borgo appartenente alla frazione di Frondarola. Quindi domani iniziamo per gli amanti del liscio con un gruppo, come potete vedere dal programma, un gruppo musicale, i Cabo del Liscio. Sabato invece ci saranno un gruppo di ragazzi che faranno musica anni 70 e domenica ci sarà l'intrattenimento da parte della compagnia del teatro dialettale La Bottega del Sorriso. Questo è lo spirito di poter ricreare un qualcosa sui nostri borghi, borghi comunque antichi per cui vale anche la pena di venire a visitare in queste occasioni ricreative e associative. Questo è l'obiettivo che si pone quest'anno, questa festa rievocativa ma più che altro per riunire la parte religiosa, la parte ricreativa quindi con il nostro comitato e come diceva anche il capitano della nostra squadra di Frondarola far conoscere una squadra che comunque opera da diversi anni in ambito sportivo e far sentire proprio l'appartenenza al nostro borgo anche dal punto di vista sportivo.